Musica 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 Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo mio, ad un mio nuovo iiiiha video io sono Xudere, sebbene io sia dislessico, il mio iiiiha non era una pazzia ragazzi, non era una pazzia, in questo video ragazzi, sono presenti degli spoiler allucinogeni sulla season 5 ragazzi, abbiamo scoperto ringrazio quello che succede su twitch e su youtube abbiamo grazie a lui scoperto i nuovi la nuova trama della season 5 o comunque parte della trama voi avete visto ragazzi, non sappiamo bene che cosa c'entri, ma voi avete visto ragazzi che la chiusura della season 4 praticamente sarà questo rocket che parte, probabilmente andrà fino a marte e ci saranno dei pezzi di rocket che cadranno nella mappa non sappiamo quanto la distruggeranno anche perché abbiamo visto un po' di giorni fa il video dove avevamo trovato insieme a nick 5 stelle la stringa di codice che diceva rocket big bang, il che vuol dire che o esplode nel cielo perché big bang è nel cielo o cambia totalmente la mappa quindi non sappiamo bene e voi dite xyuder va bene ok applausi per xyuder che ci hai detto le cose ma perché xyuder tu ci stai dicendo che la iha non ha non è una cosa detta a caso ragazzi neanche questo cappello è messo a caso perché vi faccio vedere subito subito una cosa e qua voglio veramente voglio mille milioni di like mi raccomando eh mi raccomando attenzione spronk ragazzi questa è la prima immagine che potrebbe arrivare della season 5 ho perso il cappello torna qua cappello della season 5 ragazzi è come vedete torna qua cappello sto scendendo vai a cappellare da un'altra parte per favore allora sono delle pietre con un paiolo sopra e un fuoco sotto questo ragazzi è tipico di che epoca ditemelo voi ditemelo voi bravi delfa xyuder ma non hai sentito parlare la gente bravi del far west ragazzi guardate un po' guardate un po' shambha di to love ragazzi questa è un'altra immagine che sta uscendo che è stata recuperata nei file di gioco di fortnite potrebbe essere un nuovo veicolo singolo c'è la gente che va in giro col biciclettone proprio così proprio così è veramente da un'altra cosa incredibile non so cosa sto dicendo ragazzi guarda qua sbadon terza immagine ragazzi il coso di paese potrebbe essere invece tutta una nuova area della mappa dedicata al far west chi lo sa qualcuno suggeriva che potevano essere dei primitivi ma in realtà no perché non avrebbe senso il paiolo e non avrebbe senso la bicicletta quindi sembra del far west e come ultima immagine ragazzi tadaaa questo è assolutamente il classico saloon ragazzi saloon grazie grazie eh cion allora perchè perchè come stanno dicendo maria io esco dopo questa e questa ragazzi è l'ultima immagine che abbiamo recuperato ed è una figata incredibile questo è quello che conferma che il saloon che il far west sarà parte integrante della nuova season e non è finita raga e non è finita perchè abbiamo anche tutti i nuovi standardi che verranno rilasciati con il nuovo pass battaglia e probabilmente anche con i pacchetti quelli a pagamento di salva il mondo guardalo un po' guardalo un po' shangiri attenzione primo set dei nuovi standardi il dito con la l di loser abbiamo in seconda fila invece il teschio del piccone la maschera di ray mistero ne sto citando alcuni abbiamo la maschera di ninja attenzione e poi ci sono c'è una tigre c'è un fantasma fantasmagorico e un cuore pixelato ma non sono finiti raga proseguono proseguono guardate in quanti guardate quanti ce ne sono c'è il logo della invidia non si capisce perchè c'è il logo di omega l'ultimo in basso c'è una fetta di anguria un cactus quindi ragazzi oddio torna la f di fortnite sembra che torni la no non ci credo che la rimettono non ci credono non ci credo che la rimettono però ragazzi sembra davvero che il cactus sia ovviamente indicativo del far west poi però c'è anche un dinosauro c'è un micio c'è un trapano non sappiamo perchè andando avanti ancora raga ci sono dei c'è il simbolo col pulso sono le due carte che potrebbero essere tranquillamente il poker tex soldem ci sono degli altri teschi che diventeranno sicuramente parte integrante del mio standardo e per finire un lupone incredibile in chiusura non sono finiti perchè questi invece sono gli ultimi ragazzi e il tesco con le fiamme è mio lo voglio io c'è il logo della real engine che è quello del motore grafico di fortnite c'è il logo c'è il piedone lì il triplo piede e altre 4 skin che non ho ben capito vedete ragazzi le prime 4 sembrano cioè è un logo che migliora con una progressione poi c'è un gatto che ride e un tesco che si piglia un cazzotto in faccia beh ragazzi che dire questo è veramente una misera quanto è grande questo questo è veramente un mega mega spoiler sulla season 5 ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto un sacco spero che lo condividiate con tutti i vostri amici su tutti i vostri social che lasciate un bel like e che vi iscriviate al canale io vi mando un bacione vi ringrazio tantissimo e noi siamo in live ciao ciao